Rubavano materiale dalle abitazioni ricostruite per poi rivenderlo nel mercato della ricettazione a Roma e in generale nel Lazio. Sono cinque le persone arrestate, tutti i cittadini di nazionalità rumena, questa mattina all'alba dai carabinieri della Compagnia dell'Aquila qua di Uvate nell'operazione Reconstruction, anche dai carabinieri di Pescara, Ostia e Abbiate Grasso in provincia di Milano. Un'operazione frutto di indagini partite nel 2017 che ha permesso di sradicare un vero e proprio sudalizio criminale che aveva negli ultimi anni messo a segno numerosi colpi nelle abitazioni appena ricostruite o restaurate e non ancora abitate dopo il terremoto del 2009. 12 furti in abitazione, 9 gli episodi di ricettazione, 3 i furti di automobili e diversi i furti nei cantieri edili della ricostruzione da cui i malviventi portavano via mezzi e strumenti anche molto costosi con danni ingenti per le imprese. I lade operavano di notte dopo un accurato sopralluogo per individuare le abitazioni da colpire. Con le operazioni di questa mattina due indagati sono stati rinchiusi nel carcere Le Costarelle dell'Aquila, gli altri sono sottoposti agli arresti domiciliari, risulta ancora ricercato un sesto indagato. Prossimamente abbiamo accertato 24 furti, la maggior parte dei quali in interno di abitazioni, di case ristrutturate ma non ancora occupate legittimi proprietari. Questo non è un fatto casuale, nel senso che noi abbiamo accertato che la scelta era fondamentalmente preordinata a un sopralluogo fatto da queste 5 persone arrestate. Questo perché? Perché la casa ristrutturata non ancora abitata permetteva loro di non essere sorpresi dall'eventuale rientro dei proprietari. E tra l'altro le abitazioni che sono state depredate erano tutte nel centro storico e all'interno di zone ancora non abitate. Questo consentiva loro di entrare all'interno delle abitazioni in maniera quasi indisturbata, operare all'interno e poi permettere al mezzo che è recuperare la refurtiva di arrivare e di lasciare il posto in 2-3 minuti massimo. Noi abbiamo anche visto attraverso i continui servizi di osservazione e impeditamento che uno dei due soggetti era come se impartisse ordine nei confronti degli altri, coordinava un po' con l'attività degli altri e questo l'abbiamo potuto accertare grazie all'attività tecnica fatta sui telefoni. Le caldagli venivano rinvendute nella maggior parte dei casi nel mercato nero e romano, quindi nell'ambito della capitana e nell'ambito di tutta la zona laziale. Tutti gli altri elementi che venivano rubati, quindi parliamo di impianti di domotica, impianti di luce, punte di luci, venivano rivendute sia nell'Aquila che nel mercato nero laziale. L'attività di indagine non è terminata attraverso le emissioni di misure cautelari, ma di fatto l'attività preventiva posta in essere della compagnia è giornaliera. La cosa che ci tengo a soffrire, l'elemento di informazione che ritengo utile dare è quello di un invito alla cittadinanza a collaborare nel maggior modo possibile.